L'annuncio è arrivato al termine della quarta edizione della Notte Sacra 2024. San Vincenzo Romano, l'uprevet affaticatore, compatrono di Torre del Greco nel 2025, anno in cui la Chiesa Mondiale cerbe del Giubileo. La città di Torre del Greco con il sindaco Luigi Mennella, insieme alla Basilica di Santa Croce guidata dal parroco Don Gesù e Lombardo, è già al lavoro per portare al termine l'iter che consentirà di proclamare il primo parroco santo d'Italia come compatrono della città corallina insieme a San Gennaro. La notizia è stata accolta alla fine della Notte Sacra 2024 con la solenne celebrazione eucaristica nella Basilica Pontificia di Santa Croce, perseduta dalla sua eminenza il Cardinale Crescianzio Sepe, arcivescovo emerito di Napoli. Incarnare la propria fede in quel contesto culturale, sociale, amministrativo, politico, religioso, da cui prendiamo le radici e dalla quale radice noi dobbiamo portare i frutti che la provvidenza ci assegna di dare. E Don San Vincenzo è proprio un esempio concreto, reale, di chi affonda, è nato, è cresciuto, è pasciuto qui e ha vissuto tutta la realtà del suo tempo in una maniera così personale, diciamo così torrese, che di fatto è diventato non solo il santo per la Chiesa, ma un santo di questi nostri territori, di questa nostra terra, di questa nostra diocese. Sono molto fiducioso che le istanze inviate possano vedere concretizzato quest'altro sogno di Torre del Greco e sarebbe bellissimo viverlo nella prossima Notte Sacra, nell'anno del Giubileo, nel solco del nostro santo parroco, il primo d'Italia, dichiarato Don Giosuè Lombardo, parroco della Basilica di Santa Croce. Perché il patrone è sempre quello più antico, San Gennaro, che viene dal 1500. Io penso, ho fatto l'auspicio, ma penso che si realizzi questo auspicio nella Notte Sacra del 2025, dell'anno del Giubileo. Ecco perché siamo partiti per tempo. Io penso che ce la faremo, l'auspico, e sono certo che San Vincenzo ci guiderà in questo senso qui. È emozionante perché ha l'onore di rappresentare la città, ritrovarsi a firmare una richiesta del genere. Sono le parole del sindaco Luigi Mennella. Sì, adesso lo possiamo dire. Abbiamo fatto istanza al Papa. Io, poi ovviamente Don Giosuè, come referente qui della nostra Basilica, ed è emozionante per chi fa il sindaco, trovarsi a firmare una lettera del genere, vivere da quando si è ragazzi, con prima il Beato Vincenzo nelle vene, poi santo, e immaginarsi di poi di chiedere, di farlo diventare copadrone della città di Torrelle Greco, vi posso garantire che è un'emozione unica, che ti attraversa interamente come uomo, innanzitutto come padre, ma soprattutto come sindaco. Questo is un'emozione, sono un'emozione Grazie a tutti.